Buongiorno, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista e fondatore del CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Buongiorno, eccomi, buongiorno a tutti. Allora, professor Novara, si è appena concluso un difficile anno scolastico, che ci ha lasciato ancora tanti incogni dai differenti punti di vista su come affrontare i problemi. In attesa che arrivi settembre, come ci dobbiamo preparare al nuovo anno scolastico? È una bella domanda, anch'io la vorrei fare a chi dirige la scuola, insomma, che intenzioni ci sono e se sarà possibile tornare alla normalità. Tornare alla normalità vuol dire che facciamo scuola senza le mascherine, ecco, perché il volto è una figura pedagogica basilare, senza scomodare i filosofi dell'educazione, però il volto è l'elemento centrale nella relazione, senza questa presenza della faccia, diciamo così, noi perdiamo la sostanza relazionale profonda, cioè la nostra specificità, la nostra originalità. Veramente da sempre il volto crea un imprinting nelle relazioni molto molto importanti, pensiamo solo all'importanza del sorriso nel neonato. Ci sono tante ricerche che dimostrano che il neonato sorridendo attiva nella madre un atteggiamento empatico e un atteggiamento di accudimento. Ecco, senza il sorriso noi non possiamo, come dire, interagire con gli altri, anche quelli che sostengono che ci si parla con gli occhi. Quindi, ecco, mi sembra una bella idea per fare una battuta, ma che non ha nessuna base scientifica. Per cui la mia speranza è che si possa tornare effettivamente nella normalità, ecco, senza, ve lo dico, senza mezzi termini, senza imporre la vaccinazione ai bambini. Ecco, questo sarebbe davvero molto grave, perché, come è noto, le medicine si usano a chi servono. Ecco, non si possono imporre trattamenti terapeutici o medici farmacologici come un vaccino a chi non ne ha bisogno. Tutti gli studi epidemiologici hanno dimostrato che i bambini non sono stati colpiti dal Covid. E quindi questo accanimento verso di loro e verso i genitori non ha alcun senso. Io mi auguro che le istituzioni finalmente incominciano a prendere e a fare scelte adeguate e non a brancolare a destra, a sinistra e prendere decisioni random, ecco come è stato fatto, specialmente nel periodo primaverile, chiudendo le scuole anche senza avere necessità. Per cui noi ci siamo trovati in Italia col periodo di chiusura delle scuole più lungo al mondo. Con gravi danni sui nostri ragazzi, ho dovuto seguire vari tentativi di suicidio fra i giovani, i bambini hanno esplosioni di rabbia che non avevano precedentemente a questa situazione. Ricordo due bambini che hanno spedito la mamma al pronto soccorso. Insomma sono situazioni imbarazzanti, non possiamo sacrificare i più giovani se non ce n'è bisogno. Per cui a scuola ci si torna, ecco, sperando che sia una scuola dove si può fare scuola, insomma, ecco, e dove possiamo ritrovarci perché la scuola è un incontro, la scuola è una relazione, la scuola è un rapporto fra le persone, è anche un legame che si crea. In primis bisogna costruire il gruppo classe, ecco, ma lo puoi fare se ci sono, come dire, le condizioni, ecco, altrimenti si incespica e si finisse sempre come in un eterno gioco dell'oca al punto di partenza. Ecco, voi comunque non vi fermate quest'estate, anzi, date il vostro contributo per parlare di scuola. A scuola con coraggio è il tema del convegno nazionale organizzato da lei e da CPP il prossimo 31 agosto per parlare di insegnamento e degli strumenti giusti da adottare. Ecco, ci spiega meglio di cosa parlerete in questo convegno? Esatto. L'idea che ho avuto e che ho condiviso con il mio staff e che vogliamo portare in questo convegno è quella di condividere il mio metodo, il cosiddetto metodo maieutico, che si ispira anche all'esperienza di Danilo Dolci, ma che rappresenta una metafora del far nascere, del tirar fuori. È un classico convegno pedagogico, prescolastico, quel tipo di convegno che io renderei assolutamente obbligatorio per tutte le scuole e per tutti gli insegnanti. Non è semplicemente un rito, è proprio una necessità di dire ok, iniziamo l'anno scolastico e ricreiamo un linguaggio comune. Oggi come oggi la scuola soffre di una grave carenza di un linguaggio pedagogico comune. Ecco, quando gli insegnanti parlano ai genitori non usano normalmente, non sempre usano un linguaggio né comprensibile né pedagogico. Ecco, spesso usano, che ne so, un linguaggio informatico, un linguaggio semplicemente motivato da motivi di sicurezza, o un linguaggio neuromedico. Ecco, abbiamo bisogno di ricostruire per la scuola questa comunità che sa parlare una lingua appunto comune, che è la lingua dell'educazione, che è la lingua dell'apprendimento, che è la lingua della scuola, ma è la lingua sostanzialmente della pedagogia. L'Italia ha un grave ritardo, nonostante che la più grande pedagogista dei tempi moderni, Maria Montessori, fosse italiana. Allora ho deciso, diciamo, col mio staff di mettere a disposizione quello che è un metodo che porto avanti ormai da, si può dire, da 40 anni, molto efficace perché è a costo zero ed è basato sull'insegnante come risorsa, cioè sul rafforzare, come dire, le sue capacità di regia professionale, di regia educativa e pedagogica. Quindi in questo convegno diamo proprio degli strumenti specifici. Oggi più o meno tutti dicono che il metodo della lezione frontale va superato, però ci vuole un'alternativa. Nel mio libro, Cambiare la scuola si può, dove ho illustrato questo metodo, dico che l'alternativa alla lezione frontale è la cosiddetta situazione stimolo, cioè invece che partire con lo spiegone, si parte con una esperienza, con una situazione stimolo, diciamo così, un'immagine, un racconto, una storia, un'occasione, una visita, un incontro, ecco, che diventa poi l'occasione per generare domande e quindi creare quello che da sempre definisco il laboratorio maieutico. Quindi bisogna proprio uscire da quella che è un'idea più tradizionale, se si vuole più arcaica, che gli alunni imparino ascoltando gli insegnanti. No, noi sappiamo dalle neuroscienze che l'alunno impara attraverso due processi centrali, il processo di imitazione reciproca, sia con l'insegnante, sia specialmente con i suoi compagni, e il processo del fare esperienza, cioè del mettersi alla prova, del essere in un contesto in cui deve costruire delle competenze reali. Per cui la situazione stimolo attiva le domande maieutiche, che sono domande a cui neanche l'insegnante ha la risposta, ma che attiva nei ragazzi il bisogno di cercare una risposta mettendo a disposizione le informazioni disciplinari necessarie. Quindi è un'inversione dei termini della scuola tradizionale, mentre la scuola tradizionale usa le informazioni disciplinari per fare le lezioni. Nel mio metodo le informazioni disciplinari vengono utilizzate per risolvere problemi, per affrontare i laboratori e per dar seguito alle domande maieutiche che scaturiscono dagli stessi alunni. È un metodo quindi molto motivazionale, che molto interessa tantissimo bambini, ragazzi, e nei centri che lo adottano abbiamo delle soddisfazioni enormi, ed è estrettamente scientifico, nel senso che per elaborarlo in questi decenni ho usato tutte le informazioni scientifiche che mi arrivano dalla psicologia dell'età evolutiva, dalle neuroscienze, dalla storia della pedagogia. Per esempio dalla storia della pedagogia ci arriva il mutuo insegnamento, ossia quello che noi tecnici conosciamo. A scuola gli alunni imparano prevalentemente tra di loro, ossia nella reciprocità, nello scambio, nel fatto che comunque chissà già, condividendo con gli altri, attiva un processo benefico. Se invece la scuola tradizionale punta solo a far ascoltare gli alunni, cioè a far in modo che gli alunni ascoltino semplicemente l'insegnante, questo è decisamente un equivoco, se non un fallimento. Quindi la storia della pedagogia ci restituisce il mutuo insegnamento, utilizzato anche da Don Lorenzo Milani, ma che anzitutto lo utilizzò il grande Pestalozzi, già all'inizio dell'Ottocento, un metodo efficacissimo, adesso si usa il termine peer education, abbiamo sempre bisogno di qualche inglesismo, ma mutuo insegnamento, insegnamento reciproco, è un termine bellissimo, che ci dà proprio l'idea di come la comunità, la comunità degli alunni con gli insegnanti che fanno da regista, diventano una straordinaria risorsa di lavoro, di apprendimento, per cui mettiamo a disposizione un altro dispositivo pedagogico molto importante, quello della valutazione evolutiva, che sarà questo a cambiare veramente la scuola, cioè uscire dalla valutazione assoluta, ossia dalla valutazione centrata sugli errori. Ecco, la scuola tradizionale valutava gli errori, purtroppo avviene ancora oggi col sistema delle crocette, ecco, dobbiamo uscire da questo e valutare i progressi, per cui abbiamo bisogno ogni inizio di anno scolastico, una prova d'opera iniziale, per capire esattamente a che punto sono i nostri alunni, e su questa base costruire la valutazione, cioè vedere quali progressi hanno fatto rispetto al punto di partenza. Ho chiamato prova d'opera iniziale. È un'esperienza, non, come dire, una scheda. Ecco, io penso che ormai anche chi ci segue ha capito che io non sono per la scuola delle schede, sono per la scuola della comunità, della vita concreta, dello scambio, ecco, in cui veramente è una scuola dove si fanno esperienze. Allora, questi miglioramenti poi vengono registrati e permettono ai ragazzi, tanto più quelli che hanno certificazioni, di sentire la loro crescita, perché l'insegnante valuta i loro progressi, se ne frega degli errori, non va a cercare gli errori, perché gli errori sono indispensabili, non si può imparare senza sbagliare. E quindi che senso ha continuare a ripetere poteva fare di più, poteva fare meglio, no, quanti errori non me l'aspettavo. Ho capito, ma cosa deve fare un alunno a scuola se non sbagliare? Sbagliando, come diceva la grande Maria Montessori, impara. Ecco, quindi mettiamo a disposizione tutto questo. È un convegno preziosissimo, perché una specie di bigino del mio metodo, in una giornata, si acquisisse tanto, tanto, tanto. Ecco. E poi, vabbè, ci sono anche gli ospiti, grandi amici del CPP, Alberto Liverio, Bruno Tognolini, Milena Santerini, ecco. Loro ci sono sempre. Ecco, ci sono sempre. Io non so, ho una gratitudine enorme verso il professor Oliverio, il grande Tognolini, che è il vero arede di Gianni Rodari, e la grande Milena Santerini, una straordinaria pedagogista, che adesso ha anche delle responsabilità importanti contro il razzismo. Ecco, veramente, la sua vita. Ecco, è, come dire, una conferma che, insomma, abbiamo bisogno di buona educazione. Non so come dire. Ecco, vediamo se, facciamo un attimo una sintesi di questo suo bel pensiero che ha fatto adesso. Diciamo che la scuola oggi è vittima di un errore nato circa 100 anni fa dalla riforma gentile. Di fatto, diciamo, ci trasciniamo questa cattiva visione e praticamente trascuriamo tutto ciò che stava la storia dell'educazione. Se pensiamo che una frase tipo di da Confucio dice se ascolto dimentico, se guardo ricordo, ma se faccio comprendo. E questa è una massima che poi si ricollega a quello che diceva lei le neuroscienze che ci hanno dato con lo studio e lo sviluppo su neurologi specchi ci hanno dato tutta una serie di scientificità su cosa succede nell'osservare, nell'imparare e nel fare. Ma anche le ricerche sull'uso della mano. Le neuroscienze hanno scoperto che il neonato nel primo anno di vita il 90% delle connessioni neurocerebrali sono quelle della mano. Quindi la mano va usata non per picchiettare su una tastiera, ma va usata come esperienza globale e complessiva. Anch'io quando parlo per riuscire a parlare meglio e connettere meglio il mio cervello devo muovere le mani non è un gesticolare italico come dice qualcuno, ma è una necessità. I grandi oratori, prendiamo Obama, che è decisamente un grande oratore gesticola sempre, ma non potrebbe fare diversamente, altrimenti non ce la fai. Perché la connessione della mano col cervello è la base di tutto. Cioè la nostra specie liberando le mani per le funzioni superiori invece che semplicemente per la corsa o l'arrampicata come le scimmie ha fatto un salto evolutivo nella mano che quindi si condensano i nostri neuroni, neuroni migliori. Ecco, non semplicemente nell'ascoltà, non nelle orecchie, come pensa qualche insegnante che dice ancora e dai, pulisciti le orecchie. Guardi, cara prof, anche se ha le orecchie pulite non succede nulla. Ecco, vorrei soffermarmi su questo aspetto della mano perché la Montessori diceva che la mano è lo strumento dell'apprendimento. Lei pone l'accento anche sul discorso della grafia, delle curve. Quanto è importante questo aspetto di osservare la scrittura e utilizzare la mano per scrivere, quindi non picchiettare come ha detto prima sulla tastiera, ma proprio l'importante di sviluppare la grafia nei ragazzi che apprendono. Sì, ecco, vi ringrazio che anche voi avete segnalato il mio appello a favore del mantenimento della penna nella scrittura. Ecco, è anche questa un'informazione di carattere scientifico. Nulla contro le tecnologie, per carità, anche noi la stiamo usando in questo momento perché è benissimo che ci sono le tecnologie, però ogni cosa a suo tempo e specialmente usare le tecnologie con intelligenza. Ecco, noi abbiamo tanti studi che dimostrano che tentare di imparare a leggere e a scrivere sulla tastiera produce dei ritardi seri. Ecco, sappiamo, ce lo dicono le logopediste, che l'eccesso sia di monitor, sia di di utilizzo precoce precoce delle tastiere dei videogiochi, crea degli inceppamenti proprio nella letto scrittura, per cui non è il caso di farsi del male e far del male ai propri figli e ai propri alunni. Manteniamo la penna, ecco, la penna sulla carta perché c'è una sensitività particolare in questo progetto che attiva, ecco, non possiamo di certo sostituire il processo della scrittura che è un processo articolatissimo dal punto di vista neurocerebrale con le curve, le pause, i puntini e tutto quello che c'è per esempio nel corsivo ma anche nello stampato eccetera eccetera con una tastiera ecco con una tastiera che invece è un movimento che io ho definito da criceto cioè ripetitivo ecco che non produce una connessione neurocerebrale sufficiente a sviluppare tutte le risorse per cui io temo che tanti ritardi a cui stiamo assistendo in questi ultimi 5-6 anni siano proprio dovuto al fatto lo vediamo in pizzeria che i genitori irrititi dal marketing abbiano messo in mano i loro figli tablet smartphone e quant'altro in maniera eccessivamente precoce è logico che un ragazzo dai 12 anni deve sapere utilizzare la tastiera ma non c'è nessun bisogno che la sappia utilizzare durante la scuola la scuola primaria io questo devo dire sono scettico anche su un eccesso di nella scuola primaria di tastiere ecco è pericoloso non mi stancherò mai di ripeterlo è pericoloso è pericoloso per farmi sospendere da queste informazioni scientifiche dovranno abbattermi quindi dico senza mezzi termini la scuola primaria deve mantenere la priorità assoluta nell'uso della penna sul cartaceo pena gravi ritardi nella lecto scrittura ritardi che peraltro sono sotto gli occhi di tutti sono continuamente confermati tutte le ricerche ci continuano a dire che i ragazzi fanno fatica a leggere e scrivere però se poi facciamo le mostre sbagliate solo per rispondere all'appello del marketing che ci vuole vendere qualsiasi cosa per i nostri bambini ecco compriamoli per noi dispositivi digitali compriamoli per noi il meglio possibile proprio efficienti come siamo efficienti noi adesso in questo collegamento però lasciamo che i bambini seguano le loro fasi quello che la natura ha messo a disposizione ecco diciamo che lo strumento si è reso utile in alcune circostanze come in alcune fasi ad esempio quando c'è stata la chiusura totale però ne è stato sempre un sostenitore della didattica in presenza quello che ci diceva prima nel discorso del voto della relazione l'importanza della relazione tra i pari c'è se dicendo i danni che abbiamo avuto dei ragazzi che nell'isolamento sociale che stiamo pagando oggi continuiamo a pagare ecco come si innesta il suo metodo maieutico e quanto è importante tornare a fare presenza anche per tutti i ragazzi di tutte le fasce d'età beh adesso nell'ultima fase dell'anno scolastico 2020-2021 più o meno le scuole sono state tutte riaperte riaperte con gravi gravi restrizioni anzitutto nel novembre 2020 con la cosiddetta seconda ondata i bambini della primaria vengono obbligati a portare la mascherina io ritengo questa decisione equivoca sbagliata i dati epidemiologici poi hanno abbondantemente dimostrato che il covid non ha aggredito i bambini e le volte in cui comunque ci sono stati i contagi che poi non si sono trasformati in malattie questi contagi arrivavano arrivavano dagli adulti ecco per cui non c'è bisogno di tornare alla DAD è ovvio che noi come istituto nella prima ondata stiamo parlando primavera 2020 abbiamo sistematicamente supportato gli insegnanti che ci seguono con la DAD maieutica cioè l'integrazione del mio metodo quello che così in pochi minuti ho cercato di spiegare precedentemente che appunto è contenuto nel libro Cambiare la scuola si può ecco questo metodo anche nella DAD è possibile indubbiamente ecco ovviamente tenendo conto che vengono a mancare alcuni basilari senso corpore molto molto significativi però certo che ci può essere la DAD come puro e semplice videolizionismo che accentua addirittura la trasmissività della scuola tradizionale invece che diminuirla oppure ci può essere una DAD attiva dove comunque facciamo lavorare i ragazzi dove comunque gli alunni condividono facendo le stanze e quant'altro dove comunque li teniamo sempre in attività e dove l'insegnante usa i miei strumenti tipici la situazione stimolo la domanda maieutica il laboratorio maieutico la valutazione evolutiva ecco sono concetti che spero prima o poi magari speriamo di trovarli anche nei documenti ministeriali ecco i documenti ministeriali un po' si stanno avvicinando ecco direi a queste idee ovviamente io spero in un maggior coraggio ecco tanto è positivo che la scuola primaria ecco si sia tornato a una valutazione narrativa piuttosto che numerica ecco ma questo era quasi inevitabile perché ormai come dire l'Italia stava diventando da questo punto di vista in Europa una pecora nera per cui è stato fatto un'azione di ripristino necessaria nessuno ovviamente ha protestato perché cosa c'era da protestare mettere i voti numerici ai bambini di sei anni era una nefandezza allo stato puro e niente e niente e niente di più quindi è vero ecco cioè se dovesse succedere una catastrofa o in qualsiasi momento ci fosse bisogno di fare la scuola a distanza la si può fare anche col mio metodo cioè come dire un insegnante preparato pedagogicamente metodologicamente ce la fa anche su un computer ovviamente con tutti i limiti del caso ma se un insegnante cioè non cura la sua formazione perché tanto purtroppo lo sappiamo bene ecco no come avviene il reclutamento è ancora il reclutamento basato sulla conoscenza della materia non lo dico perché voglio fare polemiche gratuite ma perché sono questi i meccanismi per cui poi avviene ecco la conoscenza della materia continua a essere prevalente mentre invece bisogna reclutare gli insegnanti sulla base della loro capacità di organizzare pedagogicamente l'apprendimento degli alunni non di conoscere una materia le materie le discipline i contenuti oggi come oggi sono a portata di tutti non è più come all'epoca di Giovanni Gentile 1923 che appunto non c'era neanche la Treccani capite che era difficile avere i contenuti quindi l'insegnante cattedratico ecco sembrava un guru che rivelasse chissà che cosa no oggi andiamo su Wikipedia o su internet o prendiamo un libro contenuti ci sono c'è l'insegnante non è quello che trasmette i contenuti ma quello che permette agli alunni di organizzare il proprio apprendimento di arrivare come dice il Ministero a delle competenze operative non a ripetere come un pappagallo le cause della rivoluzione francese ecco quali sono queste benedette cause che non è neanche semplice gli storici sono ancora lì a fare le loro controversie però la scuola ti dà le cause e no dai facciamo uno sforzo no restituiamo come dire intelligenza ai nostri alunni allora chiudiamo con un'ultima domanda lei ecco nell'ultima nell'ultima parte ci ha dato una bella una bella lezione educare la persona più che le conoscenze quindi far crescere il piacere di educare e di imparare questi sono gli aspetti che lei col suo metodo cerca di portare all'interno della scuola ecco le chiedo quanto sarebbe importante oggi che nella riforma nel rivedere la scuola si valorizzasse nell'interno degli istituti la figura del pedagogista e magari ma anche questo sarebbe un ripristino perché purtroppo non ho vent'anni e quindi un po' di situazioni le ricordo fino ai primi anni 2000 ogni scuola poteva selezionandolo proprio fra il suo personale individuare una figura che veniva definito lo psicopedagogista diciamo della scuola a cui si affidava magari un part time sulla classe e per il resto diciamo aveva delle funzioni di supporto ai suoi colleghi di sostegno nella progettazione educativa quindi il problema è che negli ultimi vent'anni la scuola si è proprio scollegata in maniera molto sostanziale dal background pedagogico oggi come oggi diciamolo senza mezzi termini perché queste informazioni purtroppo non girano l'Italia è l'unico paese in Europa che non ha una figura pedagogica riconosciuta nella scuola ecco tutti i sistemi scolastici europei hanno queste figure ma per forza perché comunque la scienza pedagogica viene riconosciuta come il punto di riferimento per per l'istituzione scolastica e quindi viene rafforzata una presenza una presenza di di questo tipo tanto più oggi che abbiamo dirigenti scolastici che sono preparati formati e reclutati specialmente sul piano delle competenze amministrative non certo pedagogiche psicoevolutive o della psicologia dell'apprendimento no e quindi tanto più oggi la scuola ha bisogno di figure di integrazione per carità alcune scuole sono illuminate grazie all'autonomia si sono dotate di queste figure io ho avuto di recente un'esperienza in cui faccio una riunione con i docenti di una scuola primaria perché stavo seguendo tramite la famiglia un bambino di quarta se non ricordo male e nella riunione è comparso il pedagogista che non era in pianta stabile nella scuola però a cui la scuola si appoggiava no avendogli fatto presumo un contratto di lavoro ma questa figura è stata centrale nella riunione perché ha permesso alle docenti di capire esattamente di cosa si stava parlando cosa si sta ecco e per cui in teoria con l'autonomia le scuole potrebbero fare come l'esperienza che ho appena raccontato ma come dico nel mio ultimo libro i bambini sono sempre gli ultimi questa è un'idea centrale bisogna che assolutamente il ministero stabilisca adesso stanno arrivando anche tanti tanti soldi stabilisca che le scuole devono avere questa figura purtroppo siamo ancora in attesa che la legge la mitica legge Iori la pedagogista Vanna Iori che è ancora adesso in Parlamento che quindi insomma va a tutta la mia gratitudine per quello che ha fatto questa legge si trasformi in un atto concreto cioè che finalmente la come dire la pedagogia non sia io sono una materia accademica sia un'attività professionale vera e propria ne abbiamo un bisogno estremo almeno per equipararci al resto dell'Europa altrimenti cosa succede che il rischio che gli insegnanti siano semplicemente ex alunni in cattedra rischia di non essere solo un rischio ecco oppure il rischio dell'insegnante fai da te ecco senza un background professionale non è ovviamente una colpa degli insegnanti ma è legato alle procedure per cui uno poi diventa diventa insegnante dobbiamo uscire da questi tunnel anche istituzionali in cui specialmente negli ultimi vent'anni ci siamo cacciati c'è bisogno però che come facciamo nel convegno restituire l'idea che la risorsa della scuola è l'insegnante no non il restyling architettonico delle scuole o il restyling tecnologico tutte le grandi esperienze pedagogiche sono hanno funzionato in condizioni di estrema austerità io quando andavo da ragazzo a fare il pellegrinaggio a Barbiana dovevo farmi due chilometri a piedi perché non ci sia arrivato in auto straordinario no ecco oppure Mario Lodi che lavorava così nei paesini della bassa cremonese piadene eccetera eccetera ecco non è che le grandi esperienze pedagogiche nascono nell'abbondanza nascono quando ci sono insegnanti carichi di passione professionale di fiducia nei loro alunni e che quindi sanno fare le mostre giuste qua con questo convegno chi parteciperà troverà veramente un linguaggio un alfabeto e delle risposte degli strumenti concreti ecco io ci tengo a ribadire la pedagogia è una scienza pratica e quindi daremo veramente degli strumenti concreti e quindi è un appuntamento da non mancare secondo me ecco grazie professore grazie grazie a tutti voi un abbraccio buon estate